Come sempre ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione del Tg4 di Telecupole, telegiornale interregionale dedicato ai principali fatti, eventi e manifestazioni dai territori di Piemonte e Liguria. Apriamo dal Consiglio regionale del Piemonte che ha finalmente approvato all'unanimità una legge per il contrasto del cyberbullismo, ovvero il bullismo in rete che attacca, offende o minaccia per mezzo di strumenti informatici. Sentiamo i dettagli. Il Piemonte, prima fra tutte le regioni d'Italia, chiede l'istituzione del patentino contro il cyberbullismo, una certificazione che attesta l'utilizzo responsabile dello smartphone. La richiesta è contenuta in un ordine del giorno approvato dall'Aula di Palazzo Lascaris che ha poi dato il via libera anche a un emendamento al testo unificato sulla prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo che impegna la regione a promuovere, anche in collaborazione con altri enti, progetti volti a coordinare iniziative formative sull'uso consapevole del web e dei social network, uniformando la modalità di valutazione. Con il provvedimento, un ruolo fondamentale viene poi rivestito dal Comitato regionale per le comunicazioni, il Corecom, che esercita funzioni di osservatorio sul cyberbullismo e concorre alle azioni di prevenzione e contrasto promosse dalla regione. Acquisisce inoltre informazioni, elabora studi, analisi e ricerche territoriali sul fenomeno e segnala alle autorità competenti gli episodi di cui viene a conoscenza, trasmettendo eventuali denunce ricevute. È previsto anche un bando annuale per attivare interventi e progetti presenti nel piano triennale di prevenzione e contrasto. Gli stanziamenti necessari sono stimati in circa 200.000 euro l'anno per il triennio 2018-2020 e che si aggiungono alle risorse che già la Giunta mette in campo con i progetti avviati anche in collaborazione con gli altri enti istituzionali, in particolare Forze dell'Ordine e Ministero dell'Istruzione. La nuova legge regionale sul bullismo e il cyberbullismo si inserisce in un percorso avviato da tempo dalla Regione che si è concretizzato in un'alleanza tra tutti i soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti nel contrasto. È questo fenomeno dall'ufficio scolastico regionale alla Procura dei minori passando per le Forze dell'Ordine. Lo sottolinea l'assessore all'istruzione che aggiunge la legge regionale da ulteriore impulso a queste attività, fornendo una cornice legislativa chiara e valorizzando il ruolo di coordinamento della Regione.